Oggi, nel giorno in cui il mondo si unisce contro la violenza sulle donne, voglio raccontarvi una storia che non possiamo dimenticare. È la storia di Giulia Tramontano, una giovane donna piena di vita e di sogni, brutalmente strappata al futuro che meritava. Oggi, finalmente, la giustizia ha parlato per lei, ma non basta. È nostro dovere continuare a ricordare, a lottare, a sensibilizzare per dire basta alla violenza di genere. Giulia Tramontano era una giovane donna di 29 anni, una ragazza solare e piena di vita che viveva a Senago, in provincia di Milano. Era in attesa del suo primo figlio, Tiago, e sognava di costruire una famiglia insieme al suo compagno, Alessandro Impagnatiello. Ma dietro la facciata di quella relazione si nascondeva un uomo che conduceva una doppia vita, bugie che avrebbero portato a un tragico epilogo. Era il 27 maggio 2023 quando Giulia scoprì che Alessandro aveva un'altra relazione parallela. Nonostante la delusione e il dolore, Giulia affrontò Alessandro, forse con la speranza di chiarire, di sistemare le cose per il bene del bambino che portava in grembo. Quella sera, però, Alessandro decise di spegnere la sua voce per sempre. In preda a un gesto brutale, l'ha colpita ripetutamente con un coltello, togliendole la vita e con essa quella del piccolo Tiago. Nei giorni successivi, Alessandro tentò di nascondere il corpo, prima cercando di bruciarlo e poi abbandonandolo in un'area isolata. Tutto mentre recitava la parte del fidanzato disperato, inviando messaggi a familiari e amici, fingendo di cercarla. Il corpo di Giulia fu ritrovato cinque giorni dopo, grazie all'incessante lavoro degli investigatori. Di fronte alle prove, Alessandro confessò, rivelando una freddezza che ha lasciato tutti senza parole. Oggi, 25 novembre 2024, nel giorno in cui ricordiamo tutte le vittime di violenza sulle donne, la giustizia ha emesso la sua sentenza. Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia e per l'omicidio del piccolo Tiago. Questa condanna è un passo importante, ma non cancella il dolore né restituisce ciò che è stato perso. È un simbolo, però, che ci ricorda l'importanza di non restare mai in silenzio di fronte alla violenza, di continuare a lottare per un mondo in cui storie come quella di Giulia non accadano mai più. La storia di Giulia ci lascia un vuoto immenso, ma anche una responsabilità, quella di non dimenticare e di agire. Se conoscete qualcuno che vive una situazione di violenza, non giratevi dall'altra parte. Parlate, denunciate. Ognuno di noi può fare la differenza. Grazie per avermi ascoltata.